Coccane sta una pade merda perchè ho prendi la il lavoro ho fatto dei sviluppi per Bad Alive hai ragione comunque volevo dirti che sto streamando allora? così così facciamo qualche bel pezzo ce l'abbiamo in stream io caro hai ieri no? la porsea addio ladro il cazzo mi ha già perso mi ha perso mi ha perso pensa a te pensa a te stai mi ha perso è praticamente facile fast, generatori fast Ancora il seguito? No Culatello? Culatino E questo killer sarà un po' rapioso Già, due generatori, tra i generatori su Stanno andando via Kineato Oddio Ma no, un po' schieno, un forte torre C'aveva addosso e non l'ho sentito, sentito solo il wow Vado a aiutare il tizio Porco dio che caga Dove sono? Dentro? Cercetta? Ovvio Opla, nooo Vado, blocca il gancio, blocca il gancio Non mi stavate io, porco dio No, l'ho tirato troppo tardi No, l'ho tirato 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 Ah, l'ho tirato Mento mori di ebano Oh coca Questo cosa fa con la Poi viene il mebento a volare Ah si E perchè non l'ho usato Polacco Polacco Perchè si dimentica A volte ha capito anche a me Quello c'è ancora la trappola sto qua speriamo sia quello giusto me l'ho sbagliato eh c'è la del culetto no guarda che oh no oh ma che pescilla ma che idiota ma che schermo Oh! GG! Ce l'ha lasciato liberarsi perchè pensava che non si liberasse tipo Oh! Oh! More! Grazie!